Io credo che la dimensione sindacale, le cose che Pier ha fatto nella CIS per il Paese siano state assolutamente ben inquadrate e ben ricordate da tutti gli interventi, in modo particolare ovviamente dall'intervento di Aldo. Io vorrei, se riesco nelle mie riflessioni, capire insieme a voi la modernità di Pier Carniti. Stamattina, venendo in macchina da Genova, dalla mia città, sotto un'acqua torrenziale, riflettevo su quello che emergeva oggi dalla stampa. 5 Stelle rimettevano in discussione il taglio al cugno fiscale a favore dei lavoratori, perché a che serve? Se non proseguiamo nel taglio, già oggi al 15%, per le partite IVA e i liberi professionisti. Grillo aveva dichiarato togliamo il voto agli anziani, gli anziani non vivranno il futuro e quindi perché farli votare con una risposta un po' sconcertante, almeno rispetto alla mia valutazione, dal Presidente del Consiglio che diceva prima facciamo un sondaggio. Grazie Andrea